Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Negli ultimi mesi, Kate Middleton ha scelto di allontanarsi dagli occhi del pubblico, innescando un vortice di ipotesi e supposizioni. Attualmente si sta prendendo un periodo di convalescenza nell'idilliaco Adelaide Cottage situato a Windsor, dopo aver subito un'operazione all'addome il 16 gennaio. Fronteggiando l'onda di curiosità, il palazzo ha diffuso comunicati ufficiali per calmare gli animi, confermando che Kate sta bene ma rimarrà fuori dalla scena pubblica fino a Pasqua, come già previsto. L'assenza di suo marito William da eventi di rilievo, come la cerimonia in onore di Re Costantino di Grecia, ha dato adito a nuove congetture. Durante il periodo di recupero di Kate, sono emerse sul web numerose teorie eccentriche circa la sua assenza, inclusa l'affascinante ma improbabile ipotesi che si trovi a Miami per un trattamento estetico noto come il lifting brasiliano. Questa fase di ritiro dalla vita pubblica si inserisce in un contesto di notevoli cambiamenti e sfide per la famiglia reale dalla perdita della regina nel 2022, e dagli eventi successivi, tra cui l'incoronazione del 2023 e l'adattamento al ruolo di principessa di Galles.